Benvenuti in un nuovo video! Ebbene sì, questo è un unboxing speciale, cioè nuovo. Non ho mai ordinato da questo sito, non ho approfittato del Rimini Welles perché c'era uno sconto del 40% e che fai? È il sito dove hai sempre desiderato di acquistare? Non ne acquisti niente? No. E quindi io inizierei subito il sito in questione MG e food e blablabla comunque nulla. Vi faccio vedere i prodottini, scusatemi se vado veloce ma sto morendo di caldo perché ho una luce sparaflesciata qui, una luce sparaflesciata qui. Sono Leo, 20 e 21 di sera e fa caldissimo. Mi scuso per il mio segno dell'abbronzzatura ma non fateci caso. Allora, la prima cosa che ho acquistato è questa farina d'avena Hot Flower Snack Croissant e Cookie. Madonna mia, c'è guardate il pegagino quanto è bello. C'è bellissimo. Eccolo qui. Se quando ero piccola andavo sulla spiaggia con il stecchiello e paletta, oggi vado con lui. No vabbè, comunque a parte gli scherzi è vegano. Eccola qui, sono davvero curiosa, penso che la proveremo in qualche video What it in a day, quindi mi raccomando non perdetevi nessun What it in a day. E quindi questo qua è croissant e biscotti. Quindi speriamo bene, sarò davvero tanto 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 curiosa. Poi mi avvicino un poco, ok? Poi ho voluto prendere questa qui, questi sono i fiocchi d'avena aromatizzati, 800 grammi gusto cookie. Prozis non fa i fiocchi d'avena aromatizzati, proprio fiocchi. E quindi li ho voluti prendere, questo qua è gusto cookies. Marona mia, mi ispira tantissimo, non vedo l'ora di provarli. Vi dico un po' i macros. Allora, per 100 grammi, 375 calorie, 7,8 di grassi, 58 di carbo, poi fibre 9, proteine 13,3, sale 0,2. Quindi adoro. Poi mi ispirava, allora io non so praticamente che gusto sia. Penso un po' fragola oppure caramella, penso di sia. Comunque c'è. Il packaging si vende da solo, cioè si vendono da solo questi packaging da soli. E questo qui è sempre vegano, MG Oats Flour Snack, questa è la farina. Ed è gusto unicorno. Già questa caramella mi sembra tipo marshmallow, poi un po' di fragola, non lo so. Comunque adoro. Anche questa sicuramente la proveremo insieme, visto che da come state notando sul canale ci sono molti più video e mi sto impegnando. Scusate, mi sono in modalità fantasmino, ma non ci fate caso. Madonna mia questa. Cioè. Questa così. Allora, MG sempre, vabbè, perché ripeto sempre il marchio, sì, il pacco è sempre quello, ma vabbè, la forza dell'abitudine. È sempre una farina d'avena, solo che questo è il Kinder Cereali. Cioè, guardate, è un po', ma do adoro. Sì, infatti, prima di questo avete visto il video unboxing di Prozis. Se vi avevo detto che io non avevo acquistato farine, questo è il motivo, perché mi sono proprio affiondata sulle farine. Poi, ho voluto prendere questa qui, è sempre una farina, una farina, però pistacchio, ma do adoro. Però questa qui è da 100 grammi. È buono che fanno, tipo, queste bustine, però, non è tipo come quelle di Prozis, di 25 grammi, che non riesci a provare. Questo è 100 grammi, quindi ci fai un po' di utilizzi, quindi adoro. Ed è pistacchio, ma dobbiamo, sono curiosissima. Poi, io ultimamente sto in fissa con il pistacchio, quindi... Poi, è la prima volta che provo una farina salata. E questa qui è sempre d'avena, ed è gusto barbecue. Mi ispira tantissimo. Mamma, io le sto lanciando così, adoro. Poi, ho voluto prendere un po' di proteine, perché ho detto, è un sito nuovo, proviamo anche le loro proteine. E ho preso questa qui, sono sempre isolate. Gusto... Raga, dove stanno scritti i gusti? Vabbè, comunque presuppongo che è tipo stracciatella, sì. E stracciatella, eccolo qui, poi vi farò sapere. Poi, cioccolato, queste sono le isolate. E poi, questa qui è cioccolato e nocciola. Sono curiosissima. Poi, ho voluto prendere una barretta, Twin Pro, protein bar, ed è 8 vitamins, vabbè, questo è cioccolato e cocco. Mi ispirava, infatti, è l'unica barretta che ho preso. Allora, se ci sono i valori nutrizionali, ve li voglio un po' dire. Allora, per barretta, 230 calorie, 5,9 grammi di grassi, 23 di carbo, 21, non si capisce niente. Comunque, 21 di proteine, 21 grammi di proteine. E io, raga, cioè, guardate come sta scritto. Cioè, voi non leggerete mai? Proteine, no, 35 proteine, no, 21. E sarei 0,2, scusatemi. Però, questi sono un po' i valori. Ma poi, cioè, raga, la chicca. Cioè, io sto morendo. La chicca sono questi qui, biscotti Oreo. Adoro, sono 36 grammi, cioè due biscotti. E io, vi dico un po' i valori nutrizionali, sono i pezzotti degli Oreo. Allora, per biscotto, cioè, un biscotto è 18 grammi, ha 73 calorie, 3,5 grammi di grassi, 3,3 di carbo, 4,5 di fibre, 4,7 di proteine e 0,47 di sale. Quindi, adoro, ci sta. E poi, ultimi due prodottini. Cioè, non potevo, non potevo, non prendere questa qui. È una crema di arachidi, gusto Kinder Bueno. Non vedrete mai. No, madonna, metti a fuoco. No. Vabbè, non vedrete mai. Comunque, io sono curiosissima di provarla. Adoro. Ma ho preso un pezzo forte. L'ho preso. Ho preso la crema di arachidi. Cioccolata, al cioccolato bianco. Cioè, adoro. Eccolo qui. Madonna, non vedo l'ora. E questa qui, il baratto è da mezzo chilo, 500 grammi. Adoro. E nulla, quindi, i prodottini. Spero che non mi deludano. Però ho parlato anche con un'altra ragazza. E si è trovata bene con le farine. Quindi, mi troverò bene anch'io. A prescindere. Sicuramente, comunque, il pacco è arrivato dopo una settimana. Perché, vabbè, c'è stato il Rimini Welles. Quindi, un po' di accavallamento di ordini. E ci sta. Però, se mi troverò bene, lo dico già. Che le farine, soprattutto queste qua d'avena. Perché sono più sfiziosi. Infatti, non sono le uniche. Ce ne sono tantissime sul sito che mi ispiravano. Tipo, ci stava tipo uno ai donuts. Cioè, adoro. Però non l'ho presa. E mi ho detto, vabbè, nei prossimi ordini. Quindi, se mi piacerà, sicuramente. Quando ci sarà un prossimo sconto. Perché costicchiano un po', ragazzi. Però, c'è... E sono prodotti particolari. Questo si deve dire. E nulla. Prima di voi avete mai visto la crema... Il burro d'alag di H&R Bueno. Cioè, vabbè. Cioè, food porn. Quindi, nulla. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. Commentate. Sapete che io vi rispondo. Adoro rispondere ai vostri commenti. E se vi fa, iscrivetevi al canale. Questo è il caldo che inizia a far male. E nulla. Io vi mando un grosso bacio. Ciao!